Il 3 maggio è stata aperta una pagina Facebook contro l'uso del velo. La possiamo considerare come un atto positivo di disobbedienza civile o come una provocazione che rischia di diventare controproducente. Con l'approssimarsi dell'estate si replica come ogni anno una scena teatrale nelle strade iraniane. Le donne, causa caldo più intenso, iniziano ad adempiere meno i principi del vestiario islamico e le autorità di polizia morale iniziano a riprimerle. Quest'anno, all'interno di questa scena prefissata da oramai 35 anni, si è visto un cambiamento. Una giornalista iraniana esule a Londra, Masih Alinajad, ha aperto una pagina Facebook nella quale invitava le donne iraniane a postare foto e video di loro stesse senza velo. Nel giro di poco meno di 15 giorni questa pagina ha raccolto più di 150.000 like è una quantità enorme di foto e di video di donne, spesso accompagnate anche dai componenti maschi della famiglia, che si sono ritratte appunto senza il velo islamico. Negli anni 30 il monarca dell'epoca mise una legge che vietò l'uso del velo. Nel 79, a seguito della Repubblica Islamica, venne messa una legge esattamente contrario che impose l'uso del velo alle donne iraniane. A questo punto possiamo domandarci come intendere questa operazione, se possa in qualche maniera portare ad aumento dei diritti civili delle donne iraniane oppure possa in qualche maniera essere controproducente. Nell'ottobre del 2013 il presidente Rouhani fece una dichiarazione in tal senso, nella quale chiese alla Polizia Morale di non dare fastidio alle donne che non avessero un hijab completo. Affermò che bisognava focalizzarsi sulla virtù e che le donne che non hanno un hijab non completo non significa che non siano donne non virtuose. In questa prospettiva possiamo vedere come nell'ultimo periodo, mancano meno di due mesi alla possibile stesura finale dell'accordo tra l'Iran e il 5-1, il governo Rouhani sia sotto un fuoco di fila da parte dei propri oppositori. Vari funzionari vicini al governo in questi giorni, ogni volta che vanno a parlare in discorsi pubblici, vengono in qualche maniera contestati dai propri oppositori. E' discorso negli ultimi giorni anche la contestazione che ha subito Rafsanjani all'Università Amir Kadir, nella quale lo stesso Rafsanjani ha detto che coloro i quali sono timorosi delle aperture sia economiche che sociali del presidente Rouhani non devono avere alcuna paura. Nella stessa ottica è interessante vedere come il governo abbia in qualche maniera chiesto e ottenuto un sostegno formale da parte della Guida Suprema. Sempre in questi giorni Noter Nuri, un importante aiutante della Guida Suprema, ha dichiarato come la Guida Suprema sia favorevole alla prosecuzione e alla risoluzione di questi negoziati. Possiamo quindi concludere che se da una parte questa pagina mostra le esigenze delle donne iraniane a maggiori libertà, una libertà che lo stesso presidente Rouhani aveva durante la campagna elettorale affermato di voler sostenere, dall'altra questa operazione rischia di indebolire la posizione di Rouhani in un momento fortemente sensibile nella quale ha da combattere i propri oppositori sia sulla politica estera, dove viene accusato di essere troppo filo occidentale, sia in politica interna, dove gli stessi oppositori li accusano di aver fatto o di voler fare troppe aperture da un punto di vista sociale.